E' arrivata la resa dei conti anche per l'Acca Montella di coach Dino Guadalupi. Le giallonere nel prossimo turno di campionato che si terrà il 4 marzo affontreranno le siciliane del Santa Teresa a formazione messinese attualmente prima in classifica a 42 punti, 7 in più rispetto a Granese e compagne che in campionato ne hanno conquistati 35. All'andata il match terminò 3 a 1 in favore dell'Acca Montella, unica formazione almeno fino a questo momento, in grado di battere la capolista. Sarà una partita fondamentale quella che verrà disputata in Sicilia, anche perché potrebbe riaprire i giochi per il primo posto, posizione che consedirebbe l'accesso diretto al campionato di Serie A. Quelli ottenuti dalle ragazze di coach Guadalupi sono numeri importanti, 9 vittorie nelle ultime 10 partite, una sola sconfitta arrivata in trasferta due giornate fa contro Casal De Pazzi, 12 vittorie totali in 17 partite che consentono alle giallonere di essere la seconda squadra, sempre dopo Messina, ad aver collezionato il maggior numero di successi. Tutto questo rende straordinaria la stagione dell'Acca Montella, che ormai da due anni cerca il grande passo che potrebbe arrivare in questa stagione, ma tutto inevitabilmente passa per la sfida contro Santa Teresa.